Musica Un convegno internazionale per riflettere su una figura come quella di Enrico Berlinguer che è stato importante per il Movimento Operario in Italia ma non solo per l'Italia? No, è molto importante per tutta la sinistra europea perché prima l'immagine di Berlinguer che era un uomo che simbolizzava l'onestà, la dignità del popolo italiano, questo è molto importante ma anche di ripensare, di rileggere le proposizioni che ha fatto sulla costruzione europea che è molto interessante adesso perché quando vediamo cosa ha detto, cosa ha fatto a questo periodo e quando vediamo adesso l'Unione Europea penso che è importante di rileggere Enrico Berlinguer Sembra antistorico parlare di interventi che sono stati fatti decine di anni fa eppure c'è un'attualità nel pensiero di Berlinguer sull'Europa? È una discussione molto attuale perché nel pensiero di Berlinguer sono intracciabili molti elementi addirittura visionari per l'epoca in cui Berlinguer ha operato politicamente che anticipavano molte caratteristiche della realtà politica attuale e in particolare della situazione attuale dell'Europa Berlinguer incomincia a leggere i suoi albori la frattura e il salto di qualità che il neoliberismo implica rispetto alla struttura del capitalismo e incomincia a tematizzare appunto la rivoluzione in Occidente come ricerca da collocare nell'Europa tutta e non solo ovviamente nell'Europa occidentale credo che da questo punto di vista ci parli moltissimo della strada che abbiamo da fare e non solo del nostro passato L'idea di un socialismo nella democrazia era il centro della riflessione berlingueriana Per noi è stato molto interessante un nuovo socialismo cioè evitando gli errori del cosiddetto socialismo reale e evitando anche i limiti, superando anche i limiti della socialdemocrazia perché la socialdemocrazia ha fatto molto per migliorare le condizioni di lavoro e di vita però non era capace di superare i limiti dello sviluppo capitalistico e per questo questo discorso e il pensiero di Berlinguer, il discorso eurocomunista per noi come sinistra tedesca era sempre molto importante e c'è sempre una grande attualità anche oggi Ma diciamo che su Berlinguer in questi anni forse si sono sedimentate due letture opposte una lettura se vogliamo apologetica e una lettura distruttiva della sua figura che in qualche modo fa risalire a lui tutti i mali anche successivi Quello che rimane oggi sia pure una situazione completamente cambiata credo che sia l'idea che poi è l'idea anche gramsciana, togliattiana l'idea che è stata alla base di tutto il tentativo di via italiana al socialismo di andare al socialismo costruendo un'egemonia nella società costruendo il consenso, costruendo una rete di alleanze sociali e politiche con un modello di economia inizialmente misto un progetto che adesso è in aree del mondo lontanissime da noi come penso ad alcuni paesi dell'America Latina, al Venezuela esperimenti del genere però di via al socialismo nella democrazia garantendo il pluralismo garantendo un'ampia partecipazione di massa cominciano a diventare qualcosa di concreto come potevano essere concrete nel 73 in Cile e qualche anno dopo in Italia se non fossero state stroncate e vedere come sia possibile costruire appunto uno Stato che in qualche modo riprenda la lezione marxiana di non sfruttamento del lavoro, di non prevaricazione dell'uomo sull'uomo dello Stato su altri Stati e così via della necessità di una democratizzazione dell'Unione del ruolo ad esempio che Berlinguer assegna al Parlamento rispetto alla Commissione della possibilità di un trattato costituzionale che non sia frutto diciamo dei governi e dei poteri forti ma del Parlamento come espressione dei popoli d'Europa tutto questo ci parla della strada che l'Unione ha ancora da fare o meglio della strada sbagliata che l'Unione ha intrapreso nel costituirsi come Europa della governance e non come Europa dei popoli è un'Europa che è fatto contro i popoli questo è il problema è che hanno rovinato anche le immagini dell'Europa allora penso che adesso è la nostra responsabilità la sinistra critica, la vera sinistra diciamo a fare proposizione diversa per un'Unione Europea veramente solidale, pacifista, femminista Berlinguer era una brava persona, era onesto aveva anche delle buone idee ma aveva questo difetto inguaribile di continuare a dirsi comunista quindi questo è quello che non gli si perdona Grazie a tutti